E a tutti quelli che non credono nel nostro sport, nel nostro stile di vita che ci accompagna noi possiamo dire solo che è la fornia di 6.0 per un sogno che possono vedere, tranne voi e allora andremo ad annunciare il prossimo match per il peso di 75 kg signori, solo 16 anni, Stolani e Andrea accompagnato da Big Bull Team Salvezzaglio, Arano, Rosso, un grande applauso, 6 anni, Valente e Valentino Rindico in Sarena, consiglio e Giorgio di Firenze, più forti e la nuova in Italia Rindico in Siani, Arano, Rosso, un grande applauso, Valente, Valentino Rindico in Sarena, Rindico in Sarena, Rindico in Sarena, Rindico in Sarena Rindico in Sarena Rindico in Sarena Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.